Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Vio 1 Variante. In a 11 3 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Prato Ovest per chi viaggia verso Firenze. Scipili coda per lavori verso il capoluogo tra Empoli ed Empoli Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Livorno Porto per viabilità esterna che non riceve nelle due provenienze. Siamo al traffico ferroviario per lavori di manutenzione programmati sulla linea. Il treno 18 749 Firenze Santa Maria Novella a Rezzo sta viaggiando con 24 minuti di ritardo. Formiamo inoltre che permangono cancellazioni parziali, totali e treni straordinari a causa dei disagi dovuti al maltempo sulla linea Borgo San Lorenzo Faenza. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Buon viaggio.